le vele sabbiano ho fallito anche io noi non possiamo che essere d'accordo forza napoli sempre una brutta storia di emarginazione sociale dettizzazione ma quel che è peggio strumentalizzazione e spettacolarizzazione di un quartiere allo sbando da sempre le vele location conosciuta e più proprio grazie alla serie gomorra di cui sabbiano e autore ma non solo banto di rapper e neomelodici che non perdono occasione per sottolineare la loro provenienza paradossalmente un luogo che diventa tragicamente trendy ottimo content per i social sfruttato dall'industria dei media è mai sviluppato perché forse a qualcuno fa comodo come ormai noto a tutti un ballatoio di quel mostro brutalista decadente e marcio e crollato portandosi via due vite umane molti sono anche i feriti si sapeva già da tempo che sarebbe accaduto forse i cittadini dichiarano che non c'era alcun cartello di inagibilità su questo indagherà si spera la procura come al solito parte la sequela mediatica dei predicatori giusti tra questi spicca e si fa notare sabbiano editorialista del corriere della sera autore romanziere ed esponente intellettuale tra virgolette di una certa sinistra engage oggi ci regala un editoriale che ha il sapore della retorica più estrema qualche passaggio è anche condivisibile vero è che bisogna ringraziare le associazioni che si fanno in quattro da sempre non solo a napoli non solo alle vele in italia i volontari sono i veri attuatori del velfare sociale non ci vuole sabbiano per capirlo torniamo all'editoriale la parte più inquietante e opinabile la seguente si continua a citare gomorra senza capire che gomorra ha provato a portare attenzione un'attenzione che non avete voluto dare ecco su questo il buon roberto sabbiano non ci trova di accordo gomorra è stato un caso letterario che peraltro infastidino un poco tutti i napoletani se non ricordiamo male erano tantissime le voci discordanti mentre l'italia acclamava il prodotto i napoletani giustamente storcevano il naso rispondendo questa non è napoli questa cosa sabbiano non l'ha mai profondamente compresa ora torna alla carica stravolgendo completamente il messaggio proprio con il passaggio che abbiamo appena riportato il libro gomorra come anche la serie non denunciano piuttosto esaltano e raccontano l'epopea delle famiglie mafiose addirittura i protagonisti sono stati acclamati come eroi invece che essere odiati come di solito si odiano i cattivi nelle fiction con questo romanzo perché diciamolo è un romanzo non un reportage non un'inchiesta giornalistica sabbiano in età giovanissima ha svoltato la carriera subito anche tante minacce fa una vita non certamente invidiabile però a un posto di lavoro oggi non è poco oggi non è dovuto ci sono tanti poeti e scrittori e giornalisti senza introiti in quel luogo che lo stesso sabbiano nell'editoriale definisce un ghetto per la precisione la periferia di napoli è un enorme ghetto saranno contente le brave persone che pagano il mutuo e lavorano duramente di sapere che il noto scrittore li vede in un ghetto questa cosa ha poco della denuncia perché la denuncia sociale è il primo step poi vengono le azioni concrete pratiche materiali soldi e lavoro mai arrivati e sì quando sabbiano chiosa dicendo ho fallito anche io noi non possiamo che essere sempre d'accordo forza napoli sempre grazie 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 grazie